Prodi gas e filaraggina varia. Aumento di servizio di gas. Oh no! Sì! Sto collassando tutto! Proprio come le dimensioni! Credivo che tutto fosse mia amica, ma è una bugiarda con le gambe corte! Sembra decisamente tentata. Ora andiamo. Non si sapevo... Aggancia la fenditura! Spero che tu stia bene.